Giacomo, come è nata l'idea di scrivere questo libro? Allora, l'idea di scrivere questo libro è nata tanti anni fa, quando ancora ero giovane. Avevo 45-46 anni e mi sono ricordato che gli Stati Uniti d'America hanno fatto una conferenza stampa nel 1999 a Vienna, di cui appunto parlavano dei valori della vita, dei diritti umani, dove è stato appurato in questa conferenza che il valore della vita e il diritto umano è il valore dalla nascita dell'uomo, di qualsiasi colore, di qualsiasi nazionalità e che i governi hanno il diritto di protezione di tali valori umani. Mi sono guardato dentro e ho pensato di scrivere una serie di incontestazioni che riguardano la mia esperienza di vita, oltretutto espresse alcune anche in dialetto, ma è una sorta di manuale che invita la volontà di vivere. In più è un atto d'amore che in larga misura allude alla voglia di vivere, al piacere di vivere, perché col piacere di vivere si esprimono dei valori, questi valori umani, e i valori umani sono importanti per la vita della persona, dell'uomo in generale. È una rivendicazione che genera l'appartenenza di ciò che può essere la vita nel futuro, dando corpo a dei valori, dando corpo a dei valori umani che incitano l'esistenza di un senso civico, di un senso morale, di un senso di responsabilità, di un senso soprattutto di rispetto, senso indignazioni. Quando lo presenterà? Lo presenterò il 28, mercoledì 28, alle ore 20, al ristorante D'Angelo, a Rosciano. Il ricavato sarà devoluto alla cooperativa Contatto, che comprende Angelo e Itaca.